Ciao a tutti, oggi prepareremo il pesto di scarola. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa. Gli ingredienti sono scarola, pecorino, parmigiano, mandorle pelate, pinoli, sale, pepe e olio. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e il pecorino ed azionare il bimbi per 10 secondi a velocità 10. Aggiungere le mandorle e i pinoli ed azionare il bimbi per 10 secondi a velocità 10. Aggiungere la scarola il pepe, il sale e l'olio. ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 7 e spatolando. riunire sul fondo del boccale con la spatola e ripetere l'operazione per 30 secondi a velocità 7. il pesto è pronto trasferire in barattoli di vetro pesto di scarola ideale per condire la pasta o farcire crostini si conserva in frigo per tre giorni coperto con un filo d'olio ed è possibile congelarlo grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti!